Nel mondo, almeno un bambino su quattro è stato vittima di bullismo o cyberbullismo. In Italia, i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che circa il 10% degli studenti subisce atti di bullismo a scuola. Con il progetto Connessi, promosso da Salesiani per il Sociale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si punta alla prevenzione. Con il progetto Connessi si sperimenta un modello di intervento di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo in contesti scolastici, formali ed extrascolastici, non formali, come gli oratori centri giovanili. Quindi sono previsti due percorsi di formazione, uno per i primi ambienti, quelli scolastici, quindi con percorsi per gli alunni, i docenti ed i genitori. E un altro percorso, per quanto riguarda l'oratorio centro giovanile, con i giovani, i genitori e gli educatori. Il progetto è diviso in due fasi. Una prima fase riguarda la formazione ed attuare ai destinatari individuati, mentre la seconda fase del progetto prevede l'elavorazione di un decalogo di regole da seguire per prevenire questi fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Mentre i giovani saranno protagonisti di un progetto multimediale di produzione di un video sulla base di quello che hanno affrontato durante il percorso di formazione. Un progetto ad ampio raggio su sede nazionale, che vede coinvolti sui 4.000 destinatari distribuiti in 18 diverse regioni. A Macerata, ad occuparsi della formazione, sarà l'impresa sociale e a giovani. Oggi a Macerata, come un po' in tutto il territorio nazionale, c'è questo bisogno di educare i giovani alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo, perché i dati che abbiamo alla mano comunque ci consegnano che molti ragazzi, molti studenti, sono vittime di questi fenomeni. Quindi noi, creando una rete di contatti, vorremmo riuscire ad applicare in ogni territorio questi obiettivi. Ad occuparsi della formazione è EA Giovani, che è un'impresa sociale che nasce all'interno dell'opera salesiana di Macerata, che ha come obiettivo quello di rendere i giovani i protagonisti della loro vita, quindi dotare gli educatori di tutti gli strumenti educativi di cui hanno bisogno nei confronti dei giovani. Il percorso di formazione inizierà nell'Oratorio Centro Giovanile di Macerata a fine novembre, mentre da gennaio inizieremo ad operare nelle scuole. In particolare quest'anno abbiamo individuato come destinatario l'Istituto Comprensivo Enrico Fermi. Per informazioni e aggiornamenti sul progetto, seguite la pagina Instagram Connessi Macerata e il sito www.eagiovani.org.